e c'è qualcuno che registra user in your channel started recording dai occhio togliete dalla trappola eritane eritane eh si togliete dalla trappola l'avete ritrappato cardin io sto più dalle zone di asak io sto più dietro occhio ad asak hai su sto cane ragazzi dattelo giù in fetta il cane per favore avete tolto due milioni a malapena alla tre on ti sposti? ah ok si è spostato i tank come siete messi con le stack? io ho resettato adesso lui non so com'è messo no non ce n'è zero lui cane è morto giratevi su shanox ti su shanox al 35% ve lo dico io occhio a trappola levati raga state attenti da shanox valala stai attento perché c'è una trappola alla tua sinistra alla tua destra comincio a girare sul cane io è il 60% vengiri ho la ghiacciata che è vicina a shanox shanox al 50% è ghiacciato il cane si fa meglio 40% merda son franzato mi ha tirato una lagata pazzesca ti libero scusate dai giratevi presto liberate Asak che non si può furare no no scusate eh porco dio eh mi ha tirato una lagata pazzesca ok 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 ok